Venerdì la vertenza Primian Foss sarà oggetto di discussione di una riunione strategica convocata a Napoli dalla regione Campania. L'obiettivo dell'incontro è quello di concordare un piano sociale che possa evitare la perdita di 300 posti di lavoro e la chiusura dello stabilimento di Battipaglia. Intanto il ministro Urso, a margine di un incontro in videocollegamento con i vertici aziendali, ha affermato che c'è la volontà dell'azienda e del governo di trovare una soluzione industriale che preservi la produzione e l'occupazione dello stabilimento. C'è attesa anche per scoprire quale sia l'acquirente che sarebbe pronto a rilevare il sito battipagliese. Nel frattempo, dinanzi allo stabilimento della Fossa Spineta alla periferia di Battipaglia, continua il presidio da parte dei lavoratori che sperano di non perdere il posto di lavoro e attendono di conoscere dettagli sulla trattativa di compravendita dello stabilimento.